ciao a tutti e benvenuti in questo video su quest'unghia ho deciso di realizzare per voi questa nail art buona visione grazie a tutti 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 questo video è terminato se il video ti è piaciuto puoi iscriverti al mio canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti alla prossima